Il waste management italiano prosegue nel percorso verso prospettive sempre più industriali di sviluppo, il processo però non avanza alla stessa velocità in tutto lo stivale. Cosa serve per rendere strutturale questo trend? Una governance a livello locale che favorisca livelli di aggregazione e di integrazione del ciclo. L'aggregazione significa imprese più grandi che dalla raccolta si occupino della trasformazione ma perfino della fase successiva della gestione di materie prime e seconde e quindi una vera integrazione del ciclo perché questo consente di restituire, come abbiamo visto anche nel VAS, ai territori valore aggiunto rispetto alla gestione dei materiali che vengono trattati dai rifiuti. La gestione dei rifiuti rappresenta un sistema dinamico, non certo un sistema statico e proprio per questo deve essere accompagnato da un sistema burocratico amministrativo che abbia la stessa velocità e capacità di seguire l'evoluzione tecnologica che oggi serve al Paese. Serve al Paese non solo per risolvere i problemi di gestione rifiuti che necessita di tutti i tipi di impianto che ci sono o che ci potranno essere ma serve anche perché oggi il sistema di gestione rifiuti serve anche da approvvigionamento per tutto il sistema di produzione grazie agli end of waste, le materie prime e seconde che garantiscono al nostro sistema produttivo una resilienza maggiore rispetto a quello che può essere il mercato e quindi l'import di materie prime da Paesi che non sempre hanno poi un equilibrio politico tale da garantirci l'approvvigionamento sicuro. Il settore del waste management cresce, si integra, le grandi aziende acquisiscono attività lungo la filiera come si fa a fare in modo che questo trend di sviluppo non vada poi a limitare la concorrenza sul mercato. Il nostro è un settore che ha superato già con dieci anni di anticipo gli obiettivi di riciclo al 2030 e ha già superato gli obiettivi di riciclo al 2025, significa che è un settore che funziona, che lavora bene che è la spina dorsale del nostro Paese, fatto da una serie di PMI. Chiaro che l'estensione di alcune attività sulla nostra filiera, a nostro avviso, va fatto in modo che i principi di concorrenza e del libero mercato vengano tutelati e rispettati. Noi l'abbiamo sottolineato più volte, per noi le indicazioni che l'antitrust ha dato a marzo sul tema della legge di concorrenza sono fondamentali e dovrebbero essere centrali e quindi dovrebbero essere riprese dal governo all'interno della legge sulla concorrenza che si appresta a varare.